Fiamme al chilometro 205 della corsia sud dell'autostrada A14 all'altezza di Monte Marciano intorno alle 7 di questa mattina, ad andare a fuoco un mezzo pesante che trasportava cartoni e carta da riciclo. Data la natura del carico altamente infiammabile, si sono levate subito alte fiamme che hanno avvolto in poco tempo la motrice del mezzo. Ancora più alta la colonna di fumo nero e denso che era visibile fin dalla ferrovia della linea adriatica dove alcuni passeggeri in transito hanno fatto alcuni scatti inquietanti. Sul posto, oltre che i vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere i danni alla sola motrice e non al rimorchio, anche la polizia autostradale di Fano. Le cause del rogo sono in via di accertamento, anche se dalle prime risultanze è probabile che si sia trattato di un cortocircuito al motore. Il conducente del mezzo è rimasto miracolosamente illeso, per agevolare però le operazioni di spegnimento si è provveduto al restringimento della carreggiata che ha causato alcuni rallentamenti del traffico.